Sono arrivati i 20.000 euro dalla regione Abruzzo che riguardano i fondi promessi per la stagione musicale 2015, i cosiddetti riparatori di quei 10.000 deliberati in un primo tempo dal governatore D'Alfonso e ritenuti un'offesa alla reputazione e 45 anni di storia dell'estate musicale frentana. Tuttavia per l'EMF i problemi finanziari restano, all'appello mancano ancora circa 90.000 euro di fondi in attesa di conoscere le ultime novità che saranno rese note nel corso della conferenza stampa convocata per venerdì prossimo dall'Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli, il concerto di domenica 31 luglio diretto dal maestro Kessel Diak ha visto la partecipazione di soli 25 studenti a fronte degli 80 previsti, riadattando il concerto per orchestra sinfonica a orchestra d'archi. A causa della perdurante mancanza di fondi l'associazione si è vista costretta a non accettare 184 domande di giovani allievi provenienti da tutto il mondo, si legge in una nota dell'associazione, e poi anche a modificare i periodi didattici e a rimandare a casa 50 allievi destinati alla preparazione dell'orchestra sinfonica che avrebbe dovuto preparare la sesta sinfonia di Beethoven. In attesa dei concerti di chiusura previsti per il 10 agosto alla notte di San Lorenzo e dell'11 all'abbazia di San Giovanni in Venere, il prossimo appuntamento con l'estate musicale frentana è per il 5 agosto all'auditorio mediocleziano di Lanciano con il seminario internazionale di chitarra. L'esperienza della musica d'insieme, dicono le MF, è indispensabile per la formazione completa di uno strumentista. La capacità di suonare in assieme in diverse formazioni si rivela cifra distintiva per entrare nell'attuale panorama lavorativo musicale.